Mi preoccupa il fatto che PD e 5 Stelle si stanno indirizzando verso una legge totalmente proporzionale. Questo significa che viene tolta la possibilità al cittadino di sapere prima del suo voto come quel voto verrà utilizzato. Faccio davvero fatica a prendere lezioni dalla Lega Nord, che è il partito che ha proposto il Porcellum. Il Porcellum è la legge che ha bloccato la democrazia in questo Paese attraverso delle liste in cui i partiti hanno scelto le persone peggiori per andare in Parlamento e quella legge ha un nome, si chiama Roberto Calderoli. Le coalizioni ci saranno, ci saranno però dopo accordi di palazzo e non dopo il vaglio della scelta dei cittadini. La polemica sullo stop da parte della consulta al referendum proposto dalla Lega per superare il Rosatellum ed arrivare ad un maggioritario pieno ormai è tutta politica. Il Presidente della Regione, a dire il vero, sembra aver digerito quella che può essere archiviata come una sconfitta per il suo partito e in attesa di conoscere le ragioni della sentenza precisa la razio alla base della richiesta del Carroccio. Nella richiesta di referendum noi andavamo a manipolare il testo della legge elettorale come previsto da precedenti sentenze della consulta che dicono che una legge elettorale non si può abrogare, in Italia è possibile soltanto il referendum abrogativo, ma si può manipolare abrogandone delle parti. Noi avevamo avvisato il Presidente Fedriga, l'assessore Roberti, che rispondere a un dictat nazionale, alla richiesta di Salvini e di Calderoli, di aggiungere la firma e le frivine da Giulia su questo referendum era un errore. Russo comunque rincara la dose. Ma soprattutto dispiace perché è uno spreco del tempo del Consiglio regionale, avremmo davvero preferito che piuttosto che correre dietro alla propaganda della Lega, ci fossimo occupati dei tanti temi che stanno a cuore dei cittadini. Penso alle vicende, solo in questi giorni, di Portovecchio, penso alla vicenda di Valmaura, di Via Mascagni, ecco. E in ogni caso Fedriga chiude con un ragionamento estremamente lineare, partendo appunto dal presupposto che l'eventuale intervento sulla legge elettorale voluto dalla Lega è stato considerato eccessivo dalla consulta. Non si possono fare referendum sulle leggi elettorali in Italia. Peccato che la Costituzione non preveda tra le materie non ammissibili al referendum materie di carattere referendario, quindi un'estensione della Costituzione che oggettivamente è una scelta estremamente forte.